Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta mascarpone e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono uova, zucchero, mascarpone, panna fresca, farina tipo 00, sale, lievito per dolci vanigliato, pasta d'arancia, gran barnier che è facoltativo, vanillina, cacao amaro e nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero e le uova. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimbi per 8 minuti a velocità 4. Azionare il bimbi per un minuto a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere la panna. Aggiungere il mascarpone. Aggiungere la pasta d'arancia o per chi non l'avesse l'aroma d'arancia. la farina, la farina, la vanillina, il gran barnier che è facoltativo, il lievito, e il sale. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Rimuovere la farfalla e mettere metà dell'impasto in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato. Abbiamo lasciato metà dell'impasto nel boccale. Adesso dobbiamo aggiungere il cacao e la nutella. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Versare il resto dell'impasto sull'impasto precedente. e adesso con una forchetta variegare il composto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Tagliare la torta. e farcire con la nutella. Livellare bene. Spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta, mascarpone e nutella. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Autore di suntarek av